Abbiamo promosso questa azione di protesta per provare a sensibilizzare il sindaco di Palermo, il Presidente della Regione affinché possano salvare ancora una volta questo teatro, che è un teatro di grande prestigio, da una probabile ventilata chiusura manifestata da alcuni ritagli di stampa dove la Fondazione prevedeva di ritirarsi dall'Associazione. Chiediamo al Sindaco e al Presidente della Regione un intervento affinché possa ristrutturare questo teatro, anche per la posizione debitoria e si possa avviare e continuare questo processo di rinnovamento che è stato iniziato con la nuova dirigenza di Roberta Laimo, che è stata una direzione proficua, interessante e che ha riportato il pubblico in sala. Per il resto non dipende dai lavoratori, non abbiamo altri problemi se non di richiedere a viva voce l'esistenza in vita del teatro. Non c'è altro da aggiungere oltre al fatto che speriamo che anche attraverso i mezzi di stampa la governance di questo teatro possa intervenire.